mamma mia quanto era lento quello lì a sparare ma che ma vabbè scusare torca puttana e che cazzo fatemi fare un passo però ogni volta che muoio da un alleato dopo non riesco più a fare un cazzo ci chiedono sempre nello spawn ci chiudono cazzo ma perché non muoiono eeeh mi sono fatto inculare eeeh ma io mi sono incastrato sul porco da dove da dove dio merda da dove niente se non prendiamo di questo spawn non cambia ecco ecco pippo scusa ah no eri tu si perchè stavo sparando quello sdraiato che era lì da tipo due ore qualcuno vada in B che siamo spawnati tutti qui ma dove non vado quel nome ma dove lo faccio io lo spawn qui e no il cazzo è sboccato questo oh basta chi è che mi spara da c l'alleato lo smetti merda oh cristo bene come da dietro come da dietro nella casucola madonna che mira ah è morto ecco perchè non che è la gente che spara una granata così appena spawnato in un punto in un punto in cui neanche dovrebbero esserci ma ma io ma avevano l'aero spia spero perchè sennò c'è qualcosa che non va non so non l'ho sentito guarda che schifo che cosa che si fa questo è quello quando ti ho ammazzato te Pippo perchè stavo sparandola si no perchè sta prendendo già guarda che guarda che no 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 andiamo incastrati in a porco di sto provando a tenerli e c'era il bombardamento in B non potevo andare avanti sicuro che se questo alleato di merda non mi da una mano veramente veramente torca fortuna mi sto abituando a vedere le granate alleate anche perchè conquistano andate oltre vabbè sono morti entrambi no niente lo vogliono conquistare a tutti i costi no 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 non ci credo ah no l'ho fatto uno vabbò è Che mira Porca puttana Abbiamo inculato i berbe No dai che cazzo ci fa dietro lo spawn dc Spiegano cos'hanno così tanta voglia di prendere la bandiera La terza bandiera Ma perchè noi Io vedi che son morto Eh mi hai ammazzato No ma son morto mentre avevo la granata in mano Ero vicino a te No se ammazzi troppe volte gli alleati Muori Ma è Ho ucciso Pippo Ma io ero vicino a te adesso Eh ammazzati tre Ho fatto tipo martirio mi sa Ti ha dato 20 secondi per respawnare No no Occhio Pippo che arriveranno dal sentiero No Pippo perchè entri nello spawn Cazzo era dentro la capanna Arrivano dalla strada Se fosse un alleato Cazzo arrivava da noi Mira di merda E là c'è uno che sta facendo 734 No cristo dio Oddio la Betty Ma dai ma su Allora io la prossima volta ti ammazzo Non me ne frega un cazzo Eh chi tu coglioni Dov'è Però subì Tiga ho un alleato di merda Eh bravo Complimenti Da me ne eliminate uno Ho rotto il cazzo sto alleato Va bene da dietro Ma perchè continua a ammazzarmi sto cazzo di Com'è che non li ho sparato Giusto per avere l'ultima uccisione alleata Aldo Io che faccio una quintupla non basta mai Va bene Come li ha uccisi Non lo so Ne ha ucciso uno Grazie per aver seguito il video Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere Inoltre se non siete ancora iscritti vi ricordo di iscrivervi qui sotto E noi ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao